Torna la festa del PD dedicata ai Padovani con numerosi eventi in programma. Sì, siamo orgogliosi di tornare in Prato della Valle che è un luogo amato da tutti i Padovani. Il nostro invito è a partecipare a questi 11 giorni in cui offriamo buona musica, grandi spettacoli, anche del buon cibo a ottimi prezzi. L'idea è quella di creare un luogo che sia il più possibile accogliente per i Padovani in cui raccontare anche l'azione del Partito Democratico a partire dal livello parlamentare e dal governo, visto che le cose stanno cambiando ed è giusto trasferire sul territorio questa azione. Si parlerà anche con i sindaci sul tema immigrazione molto discusso qui a Padova? Certamente tutti i temi d'attualità sono al centro della nostra discussione, anche qui alla festa in Prato. Parleremo con i sindaci, con chi si occupa tutti i giorni sul territorio di questo tema, cercando di trovare delle soluzioni, perché il nostro approccio è sempre quello, anche di fronte a temi molto difficili, che creano evidentemente dei disagi. Il nostro approccio è sempre quello di trovare delle soluzioni e non di alimentare strumentalmente invece un conflitto che non porta nessun beneficio ai cittadini. I numerosi saranno anche gli ospiti in programma? Sì, allora per elencare velocemente i grandi nomi abbiamo Gad Lerner, Paolo Crepe, Dario Vergassola, poi per quanto riguarda gli esponenti politici verrà il vice segretario nazionale Guerini, la responsabile comunicazione Alessia Rotta, ci sarà il ministro Orlando, il ministro Martina, Pierluigi Bersani che dialogherà con il sottosegretario Barretta. Tantissimi nomi, vi invito a guardare la programmazione e vi aspettiamo qui a festa in Prato. Grazie.